Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Nonono no 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 no! Guardate Aigenta sta soffri! Ma czt p starts to factory andiamo per sfidare questo qua bimbo che fame ca bimbo poverino non mangia mai ragazzi noi teniamo a digiuno il cane sapete è buono ti piace? è rencam è sempre bello vedere degli atti sessuali non con cani però con cani no non mi piace oh zio però mangi quello che paghi basta avere sulle sfide di imprenditorio oh mamma mia giusto tipica Italia se l'Italia va a rotoli anche grazie a noi secondo te se l'osso potesse avere un verso quale sarebbe? a parte Pam che è il tuo ok grazie mille cane per l'ottavo mese il rumore o quale verso? mi vuole morta mi vuole morta dai uno uno verso di un baco ok che cazzo fai con quei piedi? il resto dritti eh sì che tecnica è quella? sì così no ma a me il palestro lo facciamo fare così bene ieri raga in quella casa c'era un sacco di odore buono ma proprio palese di quando è appena spruzzato qualcosa per rendere l'odore buono capito? lo fanno lo fanno comunque quindi vi dicevo sei truccata oggi sembri viva è il mio solito è il solito minimo dispensabile per non sembrare che sto accrepando il solito occhiaia grazie mille a Desmond per essere spruzzata a Mr.Pillo Mr.Pillo pagati la cazzo di sub pezzo di merda bastardo pagati quella cazzo di sub pagati quella cazzo di sub Mr.Pillo pagatela non farti arrivare che sta una puttana pagati quella cazzo di sub Mr.Pillo pagati quella cazzo di sub Mr.Pillo però non lo vedo sembra solamente un castano più scuro io di più la lo vedo guarda guarda la differenza fra questo castano chiaro e questo scuro a me in realtà questo sembra più verdogno l'hai fatto qualcosa credo che sono i residui di Mario ah ok però anche il taglio non è male ma il taglio ci sta è dritto semplice sta sempre bene sempre bello non è male il taglio vero a voi piacciono è lo sporco quello la macchia di viola ma su scomparsi mi hanno mollato da subito infatti ma letteralmente mi ricordo che anche all'inizio non è che ne perché puoi averne 15 se non sbaglio ma io non ho mai visti 15 in vita mia mai non l'avrei visto aspetta che non so niente non l'avrei visto che la gente si abbonasse per così tanto tempo hai ragione grazie chakra per il secondo mese thank you so much guardami e grazie a Necros per il quarto grazie non c'è nessuno stronzo dal vostro punto di vista non è successo niente non vi abbiamo detto niente non si può sapere un cazzo quindi non ci sono ma raga no non è quello è proprio il adesso ci posso provare io cioè no 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 vabbè ma no insulti ma zero ma raga insulti da dove ma dove ma infatti raga è questo il punto che sinceramente ero estremamente confident della mia devo buttare 15 euro per colpa tua non hai non hai una playstation 4 vabbè se sei abbastanza ricco da una playstation 5 hai 15 euro zucca ci ho pensato di riuscire alla mancaga mancaga vabbè mancaga e se ho accesso la luce comunque allora mi ha riuscire a mente che non fa una piega lo so e ci abbiamo fatto ok se adesso non muoio sono invincibile sono invincibile raga sono ancora qua viva quindi palesemente sono invincibile mi sono andata un po' più avanti mi sono fatta ho spento la mia torcia quindi rischiavo anche di vabbè e ho spento la mia torcia sono andata un po' avanti e poi ad un certo punto mi sono messa a correre al contrario indietro facendo i versi da così no e verso di loro e ho attaccato pinguts ho attaccato questo pinguts sono cose che mi triggerano che che mi fanno andare completamente in down infatti l'ho già accennato un pochettino ieri da male lo ripeto per chi non c'era magari di là due giorni fa se non sbaglio sono andata al MOBA vedi voi che non ce l'avate ok capito che intendo cioè mi dicevo che vabbè l'umanità è finita capito che intendo cioè che cazzo vabbè ma sì ma sì gli astrimani lo fanno no lo so ma è proprio no codi non so leggere i numeri normali grazie per il lavoramento grazie per il lavoramento è molto più dark per assurdo non oserei dire horror perché forse è un po' esagerato ma ci sono un sacco di cose dark è un sacco figo che succede ma che schifo mamma mia vero so dove abiti non è vero allora conosci gente che sa dove abito che potrebbe dirtelo però tu non lo conosci tu non sai stavo calcolando come quando ho scoperto che mangaka aveva il mio numero a caso e non so ancora come però quindi praticamente lo sa ma ho fiducia in quelle persone come direbbero devo sputare una palla di buco vai in bagno per favore mario 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 oh mario ti rifaccio vedere il casco mario mi fai schifo mario non è il tuo bicchiere no 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 mario no 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 puoi entrare in bagno non mi toccare non mi toccare non mi toccare non mi toccare i maialini vietnamiti sono quelli che rimangono piccoli sai che il maiale quando lo prendi in braccio fa te lo giuro cioè quando li sollevi l'hai preso no ma è così i maiali quando li tiri cioè quando li alzi dal suolo urlano come pazzi gli farà schifo essere preso te lo giuro mollate mi cazzo ti giuro come reagisco io quando ti avvicini troppo come fa scusa come reagisco io quando ti avvicini troppo a me è uguale sta un po' di retro ora non ancora raga non ho fatto un cazzo di niente in questi giorni se devo essere onesta uo 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 u